ciao a tutti ragazzi io sono roman e benvenuti sul mio canale oggi cosa mangio in un giorno nello specifico uno spundino per realizzare questo piatto bisognerà avere uno yogurt io ne ho usato un total zero con marmellata alla ciliegia sbattetelo di prepotenza sul piatto aggiungete delle noci tagliate una mela però prima anestetizzatela per bene e lasciate la buccia per le fibre mescolate mescolate per avere un qualcosa di colorato e gustoso e prima di iniziare a mangiare una cosa molto importante prendete il vostro smartphone hashtag roman buonanno e postate la foto su instagram beh spero che questo piatto vi sia piaciuto intanto io me lo gusto e non vedo l'ora di vedere le vostre ricettine ispirate al mio piatto con questo io chiudo questo video iscrivetevi e condividete e alla prossima ragazzi ciao